Questa mattina i ragazzi dell'Istituto Galvani di Giuliano hanno posizionato in mare una boa molto speciale. Si tratta di un oggetto costruito proprio nel loro laboratorio scolastico, con materiale ecosostenibile e che servirà a raccogliere una serie di dati utili a monitorare alcuni parametri del nostro mare. Il punto scelto per piazzare la boa è stato quello della zona A dell'area marina protetta Regno di Nettuno, all'interno della quale non è prevista la presenza di alcun intervento umano. In realtà questo progetto fa parte di una serie di attività che abbiamo fatto con loro già da quattro anni nell'ambito di un protocollo d'intesa fra l'area marina protetta e l'Istituto. Il progetto nello specifico si chiama Oltre la superficie e prevede la costruzione, alla fine come prodotto finale di tutti gli incontri che sono stati fatti, la costruzione da parte loro di un prototipo di boa, con all'interno la sensoristica per misurare una serie di parametri dell'acqua. I nostri ragazzi hanno cominciato a ideare il prototipo, quindi siamo partiti da un'idea molto semplice, man mano l'abbiamo sempre più sviluppata e resa concreta e siamo arrivati a oggi a poterla effettivamente mettere a mare e acquisire questi dati. I dati verranno utilizzati per analisi statistiche sulle temperature e sui parametri oceanici dell'acqua nell'area marina e ci aiuteranno a capire come sta andando il nostro mare. I ragazzi giunti sull'isola sono stati prima accolti presso la sede della Lega Navale per un briefing, poi hanno assistito in prima persona al posizionamento della boa. La nostra boa di nome Neptune è in pratica una boa intelligente che è in grado di prelevare e misurare varie grandezze come ad esempio la temperatura sia marina che atmosferica. La nostra boa rileverà questi dati e poi li immagazzinerà in dei file che poi verranno prelevati grazie a una scheda SD. Utilizza delle batterie a litio che grazie a dei pannelli solari sono ricaricabili. Rileviamo la temperatura dell'acqua a diverse profondità, 15-30 metri e sulla superficie. Il pH, la pressione atmosferica. Questa boa è stata appunto realizzata con dei materiali ecosostenibili. I nostri ragazzi devono toccare con mano quello che può essere un'esperienza fatta a scuola con quello che c'è fuori. Devono capire che gli insegnamenti fatti a scuola servono dopo, servono per il lavoro, servono per la società, servono per creare un futuro che sia più adatto alle nostre esigenze.